buongiorno ragazzi sono in un contesto meraviglioso e domenica farò lezione nel parco di camminare e corpo libero questo è un avviso per una mia masterclass che farò domenica 12 febbraio in accademia eteria a prato sono due ore delle mie lezioni allora se vi ritrovate in queste situazioni che ho vissuto di persona altrimenti io sono una una donna che non testimonia le cose che non conosce perché non so non so cosa devo fare se non ho percepito delle cose cioè devo creare la lezione sulle cose che non conosco eccetera non è mio stile di vita io sono quella che testimonia solo le cose che ha vissuto sulla propria pelle le esperienze allora se vi vi siete mai trovati come me di avere fortissimi dolori nella parte cervicale avere una scoliosi gravissima non alzarsi dal letto e se completamente bloccati dolori alle ginocchia dolori alle spalle ai piedi alle mani in totale disagio ovunque per esempio non alzarsi più dal letto come è capitato anche a me essere completamente bloccati contratture fortissime soffrire delle cose continuamente dolori 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 allora queste lezioni sono per voi e anche per chi vuole avere un bel corpo snello vuole dimagrire vuole modellare vuole avere la postura corretta soprattutto anche per le mamme e per i ragazzi giovani che tantissimi vengano da me a chiedere aiuto perché veramente stanno male con la propria schiena stanno proprio male per la postura per i computer perché sono seduti con questo cellulare sempre in queste posizioni tanti giovani tanti giovani purtroppo è la società crea queste questa nuova nuova ondata dei dei ragazzi che hanno già dolori all'età di 15 16 e via via gli anni dolori alla schiena è abbastanza tragica questa cosa qua niente questi ragazzi vengono da me fanno lezioni con me e recuperano molto velocemente perché veramente i ragazzi lo fanno velocemente anche anche ragazzi di 20 anni da 20 anni in su queste due ore che sono dalle 10 a mezzogiorno sono dedicate proprio a questo allora la prima ora è pilatnes è proprio dove vogliamo avere un bel corpo dimagrire vogliamo avere la postura corretta vogliamo rinforzare la muscolatura vogliamo essere flessibile vogliamo avere la mobilità vuol dire muoversi in modo corretto le respirazioni che sono fondamentali nella nostra vita che ci tolgono lo stress l'ansia e questa questa ora è stata proprio creata per questi 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 obiettivi vogliamo raggiungere la seconda ora harmony stretch è dedicato ovviamente alla flessibilità allo stretching alla respirazione ovviamente lezioni proprio mirate per tutte le persone che hanno dolori disagi non riescono come fare hanno fatto un sacco di percorsi vanno da tutti specialisti e non hanno risolto niente e io proprio sono una di quelle insegnanti che ha creato questo queste queste lezioni che bastano veramente due volte alla settimana e in pochissimo tempo si risolve tutte ovviamente diventa uno stile di vita che faremo sempre questa ginnastica per questo è la lezione di harmony stretch finisce sempre con un rilassamento oppure una meditazione questa valutero durante il nostro percorso insieme ci sono soltanto 12 posti troverete sotto il filmato tutti tutti indicazioni per chiamarmi o scrivere una email oppure anche scrivermi messaggi su whatsapp io rispondo a tutti quanti anche se siete tantissimi io rispondo sempre a tutti per questo 12 di febbraio dalle ore 10 e viene domenica dalle ore 10 fino a mezzogiorno potete venire chiamatemi decidete potete fare o un'ora o tutte e due ok un bacione grande vi aspetto